Ci siamo guadagnati in Europa l'appellativo di Modello Udine, dice la Presidente di Confindustria Mareschi e Danieli. Unione con Pordenone e la Venezia Giulia Sima non a tutti i costi. Il Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli presenta gli investimenti per il 2020 tra le priorità al nuovo scalo ferroviario all'Azio e nella zona dell'Alto Friuli. Falsificavano i verbali per nascondere le ore passate al bar o a fare shopping in orario lavorativo. Beccati e sospesi dal servizio due dirigenti veterinari a Gorizia. Fontanini annuncia che oltre alle celebrazioni del 25 aprile ci sarà una speciale parata al 2 maggio con carri armati per omaggiare i veri liberatori della città. Il gol e l'ottima prestazione contro il Milan hanno caricato Kevin che è al top. Nel pomeriggio test con il Giorgione per chi non ha giocato al Meazza. A tutti voi buonasera, ben trovati all'edizione serale in diretta del nostro telegiornale. Siamo in compagnia di Nicola Angeli. Buonasera Nicola. Buonasera Giorgia, buonasera a tutti. In apertura i temi emersi dalla conferenza di inizio anno di Confindustria. Gli industriali priulani provano a tenere il punto nella sfida a distanza contro Pordenone e Venezia Giulia. Udine si dice pronta alla Confindustria unica regionale ma non a tutti i costi. Si lavora anche per trovare acquirenti per lo stabilimento Safilo di Martignacco e poi rimandata la legge regionale sviluppo impresa. Sentiamo David Zanirato. L'obiettivo è quello di arrivare alla Confindustria unica in Friuli Venezia Giulia entro la fine del mio mandato ma non a tutti i costi. C'è chi la legge come un'apertura, chi come un tenere il punto. Fatto sta che le tensioni tra gli industriali friulani e quelli pordenonesi e giuliani sono destinate a continuare. Lo si è capito oggi nel corso della conferenza stampa di inizio anno della Presidente Anna Mareschi Danieli affiancata dai suoi vici a Palazzo Toriani. Il Friuli in questi due anni ha ottenuto ruoli di primo piano a livello nazionale ed europeo ha puntualizzato tanto da guadagnarsi l'appellativo di modello Udine sul fronte dell'internazionalizzazione. L'unione con le altre territoriali è possibile solo se tutti lo vogliono. Noi non possiamo costringere nessuno. La nascita dell'Alto Adriatico ha scongelato la questione ma vedremo nei fatti come si concretizzerà. Mareschi Danieli ha quindi giudicato a luci ed ombre il nuovo provvedimento regionale sviluppo impresa frutto di misure riproposte con una revisione delle agevolazioni per l'industria 4.0 che non pare favorire gli investimenti. Manca poi un supporto alla residenza delle specializzazioni. Sul fronte Safilo invece la situazione, ammesso la numero uno degli industriali friulani, non è Rosea. L'azienda ha preso una volontà precisa. Non entriamo nel merito degli ammortizzatori sociali ma lavoriamo con i colleghi di Belluno e l'Advisor per cercare proposte di acquirenti. Parallelamente bisogna operare per una riqualificazione professionale dei dipendenti. Ultimo aspetto affrontato la futura guida della Confindustria nazionale. In ballo per il dopo boccia ci sono Carlo Bonomi, Andrea Illi, Licia Mattioli, Emanuele Orsini e Giuseppe Pasini. Favoriti i primi due ma Udine attende ancora prima di esprimersi. Lo farà il 30 gennaio nel corso del Consiglio Generale dell'Associazione. Citava nel servizio Davide Zanirato la nascita di Confindustria Alto Adriatico che proprio oggi Nicola ha avuto il suo atto costitutivo. Esatto citava bene David perché a Gorizia si è tenuta l'appuntamento che aveva visto firmare l'atto costitutivo di Confindustria Alto Adriatico che sappiamo unisce le due associazioni di categoria di Venezia Giulia e di Pordenone. Sono circa 1300 gli associati. Vedete Michelangelo Agrusti nella foto, insomma nello studio del notaio e Sergio Razzetto che è il presidente di Confindustria Venezia Giulia. L'iter per la stabilizzazione definitiva dell'associazione si concluderà entro luglio del 2020. La sede sarà a Trieste e verranno mantenute le filiali territoriali a Gorizia e a Pordenone. Resta confermata, dicono in una nota da Confindustria Alto Adriatico, la disponibilità per ulteriori collaborazioni con altre associazioni di categoria del Nord-Est. Traduciamo con Udine che sappiamo non ha aderito a questa unione che si è sviluppata tra le altre province della nostra regione per il momento. Associazioni di categoria delle province o ex province. Oltre a questo ci sono altri temi emersi però oggi dalla conferenza stampa di inizio anno di Mareschi Danieli. Per esempio che cresce l'export del Friuli che risolleva il dato regionale. È stabile il PIL mentre cala in parte la disoccupazione. Sentiamo. Abbiamo un 2020 stabile rispetto all'anno precedente. Questo non significa positivo. Sappiamo che nel 2019 abbiamo registrato un indice di produttività negativo. Questo non accadeva dal 2013. Negli ultimi anni abbiamo visto una riduzione di questo indice fino ad arrivare ad un valore sotto lo zero. I consumi sono fermi. La domanda interna è ferma. Il risparmio dei cittadini del Friuli Venezia Giulia è aumentato di circa il 4% nell'anno precedente, nel 2019. Questo è indice di incertezza, mancanza di fiducia. Sicuramente posso dire che la manovra di bilancio 2020 non ha aiutato questo clima sfiduciato. Abbiamo una nuova mission per Friuli Innovazione per far sì che ci siano delle reali ricadute sul territorio. Non vogliamo più che Friuli Innovazione faccia attività immobiliare, per esempio. Questo è servito, siamo tutti d'accordo, per rimettere in pari il bilancio, che era un qualcosa di necessario e va dato credito al Presidente precedente che è riuscito a farlo. Ora partiamo da una posizione quindi di bilancio sano e da lì ci possiamo permettere di spingerci un po' oltre. Quindi ci siamo seduti insieme a Area Science Park, la Regione e gli altri stakeholder del territorio. Confindustria Udine ci metterà il know-how. Area Science Park ci metterà la sua visione, il suo respiro nazionale, senza del quale sinceramente andremo poco lontano. La Regione ci metterà la percentuale di proprietà pubblica che ci serve per essere paragonati agli altri parchi scientifici regionali e per poter avere i contributi pubblici senza i quali non riusciremo a sostenere il parco e stiamo procedendo quindi a una ristrutturazione, ottimizzazione e integrazione del parco. Parliamo ora di altri investimenti a favore della industria o comunque delle zone industriali. Ammonta a oltre 15 milioni di euro l'importo degli investimenti previsti dal COSEF, il Consorzio di sviluppo economico del Friuli, per il completamento dei lavori in essere e l'avvio di nuovi interventi nelle zone industriali della Ziu, dell'Aussacorno, dell'Alto Friuli e di Cividale del Friuli. Scopriamo di più nel prossimo servizio. Prima di tutto il COSEF fa due anni di vita e i risultati sono lusingheri perché chiuderemo il bilancio con circa 500 mila euro prima delle imposte e abbiamo un piano di investimenti in infrastrutture e manutenzioni straordinarie di poco più di 15 milioni di euro. Quindi sono investimenti molto importanti che daranno lavoro alle imprese locali che hanno bisogno di lavoro in imprese di costruzione e dell'edilizia. Investimenti importanti dunque su delle aree industriali che, lo ricordiamo, raggruppano oltre 300 aziende, 10 mila occupati. Partendo dalla zona industriale udinese, che cosa ci sarà in particolare sul fronte delle opere pubbliche? Nell'area udinese sono previsti due binari a nord dell'ABS che rafforzeranno il traffico ferroviario della nostra zona. Passando invece alla zona industriale di Osoppo, novità importanti per quanto riguarda una annosa questione, quella della rotonda autostradale. Sì, anche lì inizieremo i lavori in una zona che è sempre stata pericolosa, ci sono stati incidenti e quindi fare lì una rotonda e un parcheggio credo sia un fatto molto importante per l'intera zona. Inoltre, nell'area dell'ex CIPA sono previsti anche qui il rafforzamento della ferrovia perché ha bisogno per un aumento del traffico, anche lì sono previsti due nuovi binari e i lavori di miglioramento della fognatura. Chiudiamo con la zona industriale dell'Ausacorno. In questo caso, che cosa prevedete da questo piano industriale? Fondamentalmente due cose. Una che non è gli investimenti ma quella del piano infraregionale che non è mai stato approvato in quella zona, stiamo lavorando e prevediamo di approvarlo nell'assemblea di fine anno. In ordine c'è la rotonda e il miglioramento della viabilità anche a Cividale sono previsti alcuni lavori di manutenzione stradale e soprattutto finire le asfaltature che abbiamo iniziato l'anno scorso. Lasciamo i temi dell'industria e dell'economia per passare ai fatti di cronaca e cominciamo raccontandovi una nuova storia di assenteismo ancora a Gorizia. Nuova operazione della Guardia di Finanza del capoluogo Isontino che ha smascherato due veterinari dell'azienda sanitaria numero 2 che durante le ore di lavoro facevano shopping e non solo. Vediamo. Nuovo caso di assenteismo in Friuli Venezia Giulia. Nei guai due dirigenti veterinari in servizio al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria 2, Bassa Friulana e Isontina che quasi quotidianamente si allontanavano dal lavoro a bordo delle auto di servizio per andare al bar, a casa, al ristorante, in cantine o a fare shopping. Per motivare le assenze i numerosi casi falsificavano i tempi degli interventi riportati nei verbali da loro redatti a smascherarli in nucleo polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza nell'ambito di una complessa inchiesta sull'assenteismo dal lavoro coordinata dai PM, Collini e Ancora della Procura di Gorizia. I militari hanno eseguito indagini tecniche e pedinamenti accertando che in alcuni casi i due dirigenti hanno attestato falsamente di aver svolto attività programmate fuori orario retribuito nell'ambito del piano di vaccinazione Bluetong 2018, eseguendola in realtà durante il normale orario di servizio percependo così indebitatamente le relative indennità orarie. I due sono stati sospesi dal GIP dell'esercizio del pubblico ufficio o servizi. La Guardia di Finanza però sottolinea che le condotte dei due dirigenti sono un'eccezione all'interno del servizio veterinario. Certo, giusto precisarlo che sono un'eccezione per non fare poi di tutta erba un fascio. Certo è però, Nicola, che ultimamente ne sentiamo diversi di casi e sempre nella stessa area, ora non ce ne vogliano i goriziani. Preparando il telegiornale ne abbiamo discusso dicendo ma ti ricordi che c'è stato un altro episodio? Sì, ne avevamo già parlato a Gorizia proprio di te. Andiamo a quello più recente che è dell'aprile dell'anno scorso, nemmeno un anno di distanza. La Guardia dei Finanza dice di non fare di tutta un erba un fascio ma qui non avevamo veterinari dell'azienda sanitaria ma avevamo dipendenti regionali, 14 indagati fra i dipendenti della regione Friuli Venezia Giulia. Qui siamo sul sito del Fatto Quotidiano perché la cosa ebbe una eco nazionale e mi piace che si caratterizza localmente la notizia perché i passatempi sono sempre quelli. Qui abbiamo in più il casino però c'è l'osteria, lo shopping anche in questi casi che ci ha raccontato Luciano e Delfonso. I due veterinari secondo le accuse andavano a comprare vino in cantina, andavano al bar, andavano a fare shopping, a fare di tutto un po' tranne che lavorare, abbiamo capito. E poi aggiungevano gli straordinari, questo è il metodo. Va bene, andiamo avanti, andiamo avanti restando in qualche modo nel lisontino. Andiamo a Gradisca però, è da lì che cominciano le nostre flash news a cura di Davide Zanirato per raccontarvi gli sviluppi della persona morta al CPR. Le flash news. Sarà effettuata domani mattina l'autopsia sul corpo di Vaktan Enukiz, il migrante giorgiano di 38 anni ospitato nel CPR di Gradisca di Zonzo è morto sabato scorso all'ospedale di Gorizia. L'incarico è stato affidato all'anatomo patologo Carlo Moreschi che eseguirà anche esami tossicologici e istologici per i cui i risultati serviranno un paio di mesi. Gli investigatori che seguono il caso nel più stretto riservo sono persuasi di poter dare una svolta alle indagini proprio grazie all'accertamento delle cause del decesso da parte del perito. Per il momento si è proceduto ad acquisire le cartelle cliniche della vittima e si stanno incrociando le testimonianze degli altri ospiti del centro con le immagini raccolte da oltre 200 telecamere interne. La procura, in attesa di conoscere cosa abbia provocato il decesso, ha aperto il fascicolo per omicidio volontario a carico di gnoti. Il nucleo di polizia economico finanziaria di Trieste ha confiscato beni per 600 mila euro ad un uomo, provento di attività usurai e commesse negli anni scorsi. Il provvedimento è stato disposto dalla procura. Gli accertamenti patrimoniali di carattere economico finanziario hanno evidenziato un'evidente sproporzione tra il reddito dichiarato e il reddito percepito, oltre ad intestazioni fittizie di polizze vita, conti correnti e libretti di risparmio intestati al figlio per dissimulare l'effettiva e illecita disponibilità finanziaria. La polizia di stato ha denunciato per oltraggio pubblico ufficiale, minacce aggravate, percosse e insolvenza fraudolenta un triestino classe 1962. In palese stato di alterazione alcolica ha minacciato la barista e alcuni avventori di un locale in viale d'annunzio. Denunciato per tentato furto anche un uomo nato a Mirano, residente in città, che all'interno di un negozio di largo barriera ha indossato un paio di pantaloni da ginnastica ed è uscito facendo scattare l'allarme antitaccheggio. I carabinieri della compagnia di Sacile negli ultimi giorni hanno denunciato quattro persone e ritirato altrettante patenti di guida sotto l'influenza di alcol o stupefacenti. Tra i casi più singolari a Fontana Fredda una 37enne brasiliana aveva perso il controllo della sua auto uscendo di strada. Ai militari aveva raccontato che a provocare l'incidente era stato il suo tentativo di evitare una biscia sulla strada e certamente hanno certificato che guidava sotto l'influenza di benzodiazepine. A Porcia ha infine denunciato una ciclista che si era rifiutata di sottoporsi all'alcol test dopo che era andata a sbattere contro un'auto. Nuova serie di controlli massicci della stradale, Nicola. Sì, come sempre la stradale ci dà il bilancio dell'attività settimanale, bravi, facessero tutti così. Il periodo è quello riferito dal 13 al 19 gennaio e c'è la solita sequenza di numeri sui veicoli controllati che sono stati 612, 330 le infrazioni elevate, 736 punti tolti dalle patenti. Insomma questo è il bilancio settimanale, però va sottolineato il fatto che la stradale in questo periodo si è concentrata particolarmente sulle ispezioni, sulle cisterne che trasportano materiale infiammabile. Come esempio negativo si è preso l'incidente che si è verificato l'anno scorso all'altezza di Borgo Panigale vicino a Bologna dove esplose una cisterna di GPL dopo uno scontro, sembrava praticamente la terza guerra mondiale, morì fra virgolette fortunatamente solo una persona. In questo caso l'operazione ha comportato di controllo di questi particolari mezzi di trasporto 82 verifiche, fra cui numerose cisterne appunto contenenti liquidi infiammabili e sono state elevate 27 contravvenzioni con diversi fermi anche dei mezzi, in particolare di camion, di mezzi pesanti con targa straniera. Concentriamoci ora sulla città di Udine, si è parlato oggi un po' di quelli che saranno gli eventi del 2020. Con il sindaco Fontanini invece si è parlato della festa della liberazione che sarà celebrata in città come da tradizione il 25 aprile ma ha giunto il sindaco quest'anno il capoluogo friulano omaggerà anche gli alleati con una speciale parata in programma il 2 maggio. Sindaco, ha 75 anni dalla liberazione della città dal nazifascismo, Udine festeggia con un'iniziativa nuova. Sì, è un'iniziativa con questa cosiddetta colonna della libertà, si tratta di un gruppo di appassionati che dispongono di mezzi militari dell'epoca, stiamo parlando di 75 anni fa, quindi delle jeep, dei carri armati, dei camion dell'epoca di fabbricazione tra l'altro americana o inglese anche per ricordare che Udine è stata liberata dai neozelandesi e dagli inglesi e quindi diamo così memoria, facciamo memoria di questo fatto avvenuto 75 anni fa che ha portato alla liberazione di Udine da parte delle truppe alleate, in questo caso proprio degli inglesi e dei neozelandesi, ricordando anche che molti di loro, purtroppo quelli che sono morti, sono stati sepolti nel cimitero alleato di Tavagnacco e quindi sono persone che vanno ricordate perché ci hanno portato insieme ad altri la libertà dal nazifascismo anche per quanto riguarda la città di Udine. Facciamo il punto ora su tutti gli altri eventi che ci attendono nei prossimi mesi, l'ho fatto sempre Luciano Edelfonso con l'assessore Franz. Abbiamo iniziative importanti già da subito anche per la valenza sociale, il 30 di gennaio ci sarà la Torcerano sia nell'ambito di una importante manifestazione che si chiama Special Olympics 2020 che si svolgerà a Sapada, Udine sarà protagonista assieme anche a molte altre città e nella mattinata del 30 è previsto un track che ci sarà in Piazza Libertà e poi ci sarà questa torcia che arriverà a Udine, partirà da Piazza Duomo arriverà fino in Piazza Libertà con la partecipazione di scolaresche e con associazioni sportive. Poi però l'anno prosegue il clou tra Friuli d'Occa, Improsite e Notte Bianca. Sì, sono gli appuntamenti tradizionali, quest'anno si aggiunge anche la tre giorni di ciclismo perché Udine e Friuli saranno protagonisti nel Giro d'Italia dal 24 al 26 di maggio, poi la Notte Bianca che di solito concorderemo con la situazione di categoria generalmente al primo giorno dei saldi, per poi proseguire con Friuli d'Occa all'inizio di settembre che ormai è una manifestazione consolidata e la conferma anche di Improsite questa manifestazione che proprio adesso ha avuto un importantissimo riconoscimento a livello internazionale essendo stata valutata dal Gambero Rosso come la seconda manifestazione a livello internazionale del settore della gastronomia che vedrà anche quest'anno protagonista la città di Udine e l'intera nostra regione e poi per finire naturalmente con tutte le manifestazioni che riguarderanno il Natale, le festività e la grande festa di Capodanno, quindi una conferma degli appuntamenti tradizionali ma in più anche aggiunta a grandi avvenimenti sportivi come il Giro d'Italia. E sui finanziamenti proprio per gli eventi ci sono delle polemiche, Nicola? Sì, polemiche di Diego Moretti del Partito Democratico che ha esternato, oggi dice è giusto dare l'attenzione ai grandi eventi ma l'aggiunta a Fedriga, quindi indirizzato verso la gestione regionale dei contributi, la stessa giunta alla quale Udine chiederà i contributi che ha annunciato Maurizio Franz, dice Fedriga sta dimenticando intere fette di territorio da dove da anni si organizzano importanti appuntamenti musicali, ci aspettiamo un comportamento equanime da parte della regione attraverso Promo Turismo FWG nel sostenere gli eventi musicali di rilievo sul territorio, dove va a parare Moretti, dice che il concerto di Elisa che si è svolto a Monfalcone il 28 dicembre è stato sostenuto dalla regione, mentre quello che si è svolto il 6 gennaio a Staranzano, che è il comune da dove proviene Diego Moretti, anche il suo bacino diciamo d'utenza elettorale non ha visto praticamente un euro, quindi vuole una gestione un po' più equanime della questione, il rappresentante del Partito Democratico. Chiudiamo con un'ultima notizia sul gusto, diciamo così, degli udinesi. Allora il gusto è che non è quello come vedete nella immagine che pubblichiamo dal web del topo, ma prendiamola un po' alla larga, arriva il Capodanno cinese il 25 gennaio, quest'anno sarà l'anno del topo, non so che segno di odiacale sei tu cinese, nemmeno io evito, viste le proposte, con tutto il rispetto, però che cosa succede? Che Udine, come informa Just Eat, che tanti conosceranno è un'app che ti permette di ricevere a casa i pasti caldi, i take away, insomma da un po' da tutti i ristoranti che li propongono, che aderiscono, dice che Udine è la città dove il consumo di cibo cinese per asporto cresce di più in Italia o fra le città dove cresce di più, addirittura del 71% nell'ultimo anno, seconda dietro a la spezia e foggia, ti do anche questo dato così. Però, vedi? Molto interessante. Vedi, molto interessante, quasi inaspettato. Tu mangi cinese, Giorgia? No. No, vedi, allora quindi, mangiandone poi aumenta la percentuale. Non è grazie a me che aumenta quella percentuale, sicuramente. Va bene, mi varrebbe una battutaccia, visto che dobbiamo parlare di lasagna ora, ma non la faccio, dico semplicemente che passiamo, allo sport e passiamo all'Udinese, l'Udinese che è tornata da San Siro senza punti, con una prestazione davvero convincente, ma soprattutto a San Siro ha riscoperto un grandissimo lasagna ed è proprio da lì che si riparte nel preparare la sfida contro il Parma da lasagna e dall'undici visto nelle ultime uscite. Intanto per oggi c'è stato spazio anche per chi ha giocato di meno al Meazza, un'occasione per fare un pochino di minutaggio, nell'amichevole giocata al Bruseschi contro il Giorgione, che tra l'altro vi abbiamo fatto vedere in diretta questo pomeriggio. Il punto della situazione nel servizio di Jacopo Romeo. Con un turbo nel motore di nome Lasagna, il capitano si è ritrovato e a San Siro è stato praticamente devastante, imprendibile per tutta la partita e incisivo in zona goal con una spettacolare girata di testa da punta vera. Le sue caratteristiche, il suo attacco della profondità, restano uniche e preziose per l'Udinese e, perché no, anche in chiave azzurra. Quando può attaccare gli spazi, KL15 è incontenibile ed è tornato a dimostrarlo dopo qualche uscita appannata con le polveri bagnate sotto porta. L'alchimia con Okaka migliora costantemente e la sensazione è che le loro caratteristiche si completino al meglio. Adesso nel suo mirino c'è il Parma, già colpito all'andata con un gran goal, purtroppo però infruttifero in termini di classifica. Ora Lasagna è carico e rinfrancato, una garanzia per Gotti. Domenica, dopo la splendida prestazione di San Siro, al Tardini si ripartirà da lui ed ancora da quell'undici che di settimana in settimana vede incrementare le proprie certezze. Oggi la ripresa dei lavori dopo il giorno di riposo, con il gruppo frazionato in due metà. I giocatori non impiegati da titolari contro il Milan hanno affrontato un test amichevole al Bruseschi con tempi da 30 minuti contro il Giorgione, formazione d'eccellenza veneta. 3-0 il risultato, con la doppietta di Teodorczyk nella prima frazione ed il Tris di Nestorowski nella ripresa. Un modo per dare minutaggio a tutti, ma senza indicazioni sostanziali visti i ritmi blandi. I titolari di San Siro invece hanno svolto una regolare seduta di allenamento, con lavoro a secco e con la palla ed esercitazioni tecnico-tattiche. Domani la squadra al completo lavorerà per due volte, al mattino e al pomeriggio, per intensificare la marcia d'avvicinamento alla sfida col Parma. E poi c'è la sfida, ci sarà, la sfida contro l'Inter, per cui insomma le prevendite vanno a gonfie vele. Le prevendite vanno a gonfie vele per la sfida del 2 febbraio, ma ci sono ancora biglietti a disposizione, tranne le curve che sono esaurite, la curva Nord, scusate, qui vedete tutte le tariffe a vendita libera per la serata, la Dacia Arena, con tutte le possibilità, insomma, e le biglietterie che rispettano i seguenti orari, lunedì 15-19, martedì e venerdì 9-13, 15-19, sabato dalle 9 alle 13. Anche quest'anno torna il Torneo delle Nazioni, giunto alla 17esima edizione, oggi all'Hotel Franz di Gradisca, di Sonzo, c'è stata la presentazione della manifestazione. Vediamo il servizio di Alessandro Sursa. Quasi maggiorenne anche quest'anno torna il Torneo delle Nazioni che tocca, quota 17 edizioni. L'importante manifestazione internazionale riservata al mondo del calcio giovanile quest'anno andrà in scena dal 26 aprile al 3 maggio e proprio oggi all'Hotel Franz di Gradisca di Sonzo c'è stata la presentazione dell'evento. Evento che vedrà impegnate 16 squadre maschili per quanto riguarda la categoria under 16, 8 squadre femminili under 17 e 4 squadre di calcetto a 5 under 19. Si spera di riuscire a mantenere le 16 squadre per la categoria under 16, ma, si spiegava oggi, vista l'importanza del torneo, alcune federazioni internazionali hanno richiesto requisiti tecnici e caratteristiche che non tutti i campi da gioco possono garantire. Ecco perché eventualmente si scenderà a 12 squadre proprio per l'alto livello tecnico del torneo. Gradisca, come sempre, avrà un ruolo centrale nella manifestazione nella località friulana, infatti, si svolgeranno le prime due gare inaugurali e le due gare finali, oltre ovviamente alla sfilata inaugurale prevista per il 26 aprile. Innanzitutto dovrei chiarire che l'iniziativa è stata di Giorgio Brandolin assieme a me. Lui era presidente del CONI, io allora ero suo vicepresidente. è nata da lì con le idee così già futuristiche su quella che sarebbe stata la grande Europa, perché tutto nasce da lì. Non pensavamo mai che potesse raggiungere un livello di notorietà a questo livello. Onestamente questo, dobbiamo ammetterlo, è stata una sorpresa anche per noi. Siamo stati contentissimi di riproporci, nessuna motivazione, nessun ripensamento, anzi, speranza di poter ripetere questa esperienza. L'anno scorso l'abbiamo vissuta in maniera molto interessante, ci è piaciuto tantissimo l'evento, le dimensioni, l'esperienza che per noi è formativa, ma è anche un investimento, perché sicuramente su ciò che riguarda un'attività sportiva rivolta verso i giovani, su ciò che riguarda un messaggio di educazione, di sport, di sensibilità, di fatica e di passione. Diciamo che è un torneo green, quindi sicuramente la nostra presenza sul territorio è fondamentale. Saremo presenti soprattutto con quello che possiamo e quello che dobbiamo, e cioè con l'acqua. Sicuramente ci saranno degli erogatori nei principali campi, e quindi forniremo anche questo servizio. La prima serata di Udinese TV Nicola, è con lo speciale del Tg, il giallo di Rosetta, due anni dopo concentrato su quello che fu l'omicidio di Rosetta Quaiattini, ve lo ricorderete, morta in un incendio simulato, chiamiamolo così, in una villetta di Bay Vars, ma ovviamente vanno fatti ancora diversi approfondimenti, verranno fatti con Eddie Sanson, che è un consulente per le investigazioni criminali, Michele Romanelli, investigatore privato, Elena Commessati, giornalista e scrittrice, e Stefano Comando Avvocato Penalista, presentano David Zanirato e Francesco Pezzella. Da non perdere, in diretta a partire dalle 21, grazie Nicola. Grazie Giorgia. E a voi per averci seguito, il Tg torna alle 22.30 con una nuova edizione in diretta, buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.